Gentili telespettatori, buona giornata. L'SMS di Giorgia Meloni staranno impazzendo. Di chi e che cosa stiamo parlando? Beh, avete visto la clamorosa sconfitta del campo largo, campo larghissimo, con nascosto dentro anche Renzi con Abruzzo vivo, no? Sembra quasi una roba da banco del pesce, Abruzzo vivo, no? Vorrei tre chili, mi dà un chilo e mezzo di Abruzzo vivo, abruzzo vivo, mamma mia che brutto nome, vabbè. Campo largo in versione extra large, con dentro tutti e tutti sono stato clamorosamente affondato dalla corazzata del centrodestra. Beh, vince il centrodestra col 53% e tutti gli altri messi insieme dal primo all'ultimo sono arrivati al 46,5. Sette punti di distanza. Beh, doveva essere la svolta, il vento è cambiato, diceva la Schlein. Sì, era cambiato il vento che questa volta il centrodestra non regala la regione agli avversari, perché gli avversari possono pensare di vincere solo se arriva un regalo del centrodestra, come in Sardegna. Il vento è cambiato, la svolta, sì, la svolta, gira a sinistra col navigatore, no? La svolta, la svolta. Vabbè, avete visto che la svolta, almeno fino ad oggi, non c'è stata, in un futuro chi lo sa, ma per il momento la svolta non c'è. Marsilio afferma di aver scritto una pagina di storia e dice il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo, perché era il suo triste passato. Il campo largo non sarà il futuro dell'Italia, dice Marsilio. Scontata, giustificata la soddisfazione di Giorgia Miloni, che stando ai retroscena di stampa avrebbe avuto qualche cattivo pensiero nel vedere i dati dell'affluenza alle 12, dati altissimi che in linea teorica avrebbero potuto penalizzare il centrodestra. Infatti, anch'io dalle indiscrezioni vi avevo fatto un video dicendovi che il record di affluenza alle 12 vuol dire che quelli di sinistra stanno andando in massa a votare, come successe per Bonaccini, che era diventato un referendum Salvini e Bonaccini, erano andati in massa a votare e lì si era perso. Quindi anche la Meloni, come me, quando ha visto alle 12 il record dell'affluenza ha detto eccoli lì, quelli di sinistra vanno a votare, quelli di destra stanno a casa a dormire. Dunque, nella notte, quando poi la vittoria era netta, delineata e ottenuta per un distacco assolutamente consistente, perché il primo exit poll diceva se la stanno giocando, 47 a 47,5, ha detto ai 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 signora mi è caduta sul signora Longari, ai 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 signora Longari. Quindi il primo exit poll sono rimasto così, con la faccia un po' così di quelli che hanno visto Genova. E poi, è una canzone, ci mancherebbe altro, ma poi verso le due di notte, due e mezza di notte, vedo distanza di dieci punti, ho detto ammappate alla faccia del testa a testa. E la Meloni, il senso del messaggino secondo Repubblica è questo, ci davano già per finiti, staranno impazzendo. Chissà se l'SMS di cui racconta Repubblica, che ultimamente ne abbiamo parlato spesso di un giornale che non è propriamente molto corretto, scusate amici di Repubblica, ma non solo Repubblica, molti giornali non sono molto corretti, diciamo. Il messaggino di Meloni ci davano già per finiti, staranno impazzendo. Questa volta, secondo quello che dice Repubblica, questo messaggino potrebbe essere assolutamente, assolutamente reale. Staranno impazzendo. Infatti, già ai primi exit poll esultavano, esultavano, sì, 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 sì. Dopo i primi dati, le prime sezioni scrutinate, si è capito che con l'exit poll molti stavano raccontando delle frottole, nel senso che l'exit poll è quando vanno a intervistare quelli che escono dal seggio e ti dicono quello che hanno votato nell'anonimato e dicevano che erano alla pari, invece c'era una bella distanza del 10%. Quindi gli exit poll spesso sono non inventati, ma la gente ti racconta delle balle fuori dai seggi, magari ti vota per il centrodestra, chi ha votato? Ho votato per i comunisti. Sì? Certo. La gente ti prende anche in giro fuori dal seggio, no? O ti prende in giro o non ti vuole dire quello che ha votato, inventa. E così dall'exit poll sono testa a testa, non era vero, c'era una bella distanza di quasi il 10%. Ed ecco che staranno impazzendo, eh sì, perché poi dalle elezioni è uscito un tracollo del Movimento 5 Stelle, un tracollo della Lega, il boom di Forza Italia, Fratelli d'Italia che tiene assolutamente, anzi sommando i voti di Fratelli d'Italia della lista Marsilio, fedelissimo della Meloni, il Movimento 5 Stelle, come cavolo si chiama, Fratelli d'Italia praticamente è intorno al 30%, che è, insomma, decisamente notevole. Questo è quello che è successo, staranno impazzendo e sono impazziti anche dopo. Sognavano il ribaltone, li sconfiggiamo anche in Abruzzo e poi alle europee li facciamo proprio secchi tutti, il governo non durerà fino al 2027. Sognavano già di tornare in Rai, di mettere di nuovo Fabio Fazio, di mettere di nuovo l'annunziata, non lo so, di mettere Amadeus a parlare di politica con un programma proprio, no? Cioè, visto il festival dice, ma Amadeus gli diamo un bel programma di politica, no? Mi manda Amadeus, oppure al posto che di martedì di Amadeus. Va bene, i sogni di Gloria, di tornare a impossessarsi di tutte le poltrone, in Rai, nelle aziende, in Parlamento, di fare un po' di dossieraggio allegro, dovranno rimandarlo. Cari amici di sinistra, i vostri sogni sono durati dieci giorni, pensavate a fare il bis, il tris, il quatris, il cinquis, il sexist, il noviss, il bebiss. Va bene, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video, credo l'ultimo della giornata. Arrivederci e grazie.